Ciao a tutti ragazzi, oggi passeremo qualche minuto insieme con questo grande orologio stiamo parlando di IWC Pilot Chronograph l'orologio si può dire iconico di IWC per quanto riguarda la camma Pilot poiché questo orologio poi arriva da lontano per andare a declinare insomma questo stile questo strumento possiamo dire perché ad uno strumento si avvicina e prende spunto quello degli orologi degli Junkers e ne vediamo uno rappresentato proprio sul fondello per andare poi a trattare diverse anche complicazioni molto bello è il double chronograph rattrappante dove le dimensioni però crescono ma di dimensioni insomma parliamo anche qui perché se andiamo a vederlo ecco nei particolari notiamo ecco uno spessore ragguardevole per ospitare all'interno l'ETA 7750 di fornitura portato al massimo del potenziale delle performance un calibro all'interno delle specifiche COSC quindi meno 4 più 6 dove vi assicuro che in questo caso la precisione è perseguita a livelli veramente anche di calibri superiori a quelli dei requisiti qualitativi di un 7750 e qui riconosciamo questa è un orologio che è stato prodotto con questo calibro di cui vi parlo ma che è stato anche riprodotto ecco vediamo anche la configurazione attuale con calibro di manifattura IWC dove si distingue per la sfera dei secondi spostata ad ore 6 mentre qui classico lo vediamo con questo layout con la sfera dei secondi ore 9 come 7750 7750 che conserva delle particolarità quindi quello di dover andare a eseguire le operazioni di messa di regolazione oraria fuori dall'arco di processo ne andiamo a vedere mettersi sempre ecco ad ore 4 per fare tutte le operazioni di variazione qui abbiamo il manuale di variazione del giorno e della data al contrario potrebbero esserci altrimenti alcune interferenze ora io ero ore 10 però ore 10 antimeridiana quindi non c'erano in quel caso anche problemi però la cosa importante è sempre fare la regolazione oraria più o meno con la sfera da queste parti non ricordando anche con esattezza dove si trova vedete dove inizia il processo di cambio eccolo qua prima il giorno e poi ecco siamo arrivati poi alla data andando a farlo per riprova con maggiore velocità avete visto? cambio perfetto ovviamente ci possono essere dei disturbi a seconda della velocità con la quale si esegue l'operazione ma questo è nulla per l'orologio perché noi ne stiamo parlando perché raramente poi si parla di IWC in questo caso ecco la parte laterale la parte posteriore è molto interessante il fondello è un fondello ancora qui con la pellicola originale è un fondello che è completamente cieco ma la parte interessante è quella proprio del bracciale guardate anche le lavorazioni di IWC perlage sul deployante qui la chiusura e con questo doppio pulsante che vi mostro in particolare andiamo ad avvicinarci un pochettino sembrerebbe un po' macchinosa però ecco abbiamo due pulsanti contrapposti con il rientro di questo scatto lo vedete anche che va ad alloggiarsi al di sotto di questo dente che vediamo sul profilo e quindi andiamo ad incontrare si va a chiudere e la cassetta viene chiusa ma guardate anche le curiosità delle cassette di IWC andando a premere qui dove abbiamo il logo di IWC ecco posso andare ad allungare e scarrellare più o meno di una maglia come è realizzato lo andiamo a vedere subito guardate qui ci sono due molle che sono sotto questi organi che permettono poi di allontanare e di far scarrellare poi all'interno della cassetta l'estremità del bracciale e guardate ancora come è realizzato questo bracciale perché forse magari sui social l'avete visto ma questi pulsantini che sono a sottoprofilo diciamo a profilo della superficie della maglia non sono altro che come vi dicevo appunto io una parte in cui andare a premere ecco avete visto la pressione separare poi l'estremità ecco vedete fuoriesce separare l'estremità per andare a scomporre totalmente il bracciale per attività di lucidatura eccetera questo è lo stesso sistema di cui è dotata Panerai per andare a rimuovere il bracciale ma questo sistema con questo micropulsante è direttamente sul lanza per Panerai ora ci potrebbero essere dei problemi forse la sabbia perché questa parte circolare che stiamo vedendo altro non è che una boccola piantata questa è una boccola piantata fissa di interferenza perché c'è una molla al di sotto di questo pulsantino quindi c'è una molla il pulsante viene poi adegiato nella cavità e poi questa boccola di interferenza viene piantata sotto sul profilo infatti vedete è a profilo con la maglia e questo crea questo particolare questa particolare configurazione di bracciale molto molto bella e di qualità per IWC poi per il resto troviamo un finale solid and link che vediamo qui c'è lo Junkers 6 bar quindi abbiamo 60 metri di profondità si sa che la specifica sui Pilot non è proprio una specifica diciamo da competizione se così vogliamo chiamare ma andiamo a vedere l'orologio al polso questo è come si presenta l'IWC Pilot però ecco al polso magari anche in una versione un po' più formale diciamo ecco una versione un po' più casual e l'orologio visto che abbiamo visto scusate il gioco di parole anche dimensioni di spessore abbastanza importanti se lo pesiamo andiamo a vedere il peso di questo orologio perché bisogna fare i conti anche con il peso di un orologio quando lo si sceglie abbiamo un orologio e guardate anche da 196 grammi quindi 77,50 all'interno e anche contornato poi di un distanziale metallico per stare incassato bene all'interno di questa di questa carora questo è l'orologio le dimensioni le andiamo a vedere poi in chiusura del nostro video guardate ecco questa è la versione 43 vi ricordo che e 41 la versione con calibro di manifattura quindi leggermente più dimensionato poi il lag to lag ce l'abbiamo si ferma a eccolo qua 53.58 centesimi e lo spessore andiamo a 15 e 56 quindi andiamo ad un 16 16 mm di spessore bene ragazzi questo è stato un video così occasionale per vedere questo grande orologio io vi saluto se il video vi è piaciuto mettete un mi piace noi ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 Grazie.